i modi asci Oggi mangelo tanto. Siamo come i lemoni, mangiamo sempre. Usiamo solo quando facciamo la pizza. Oggi facciamo una scelta di 260 metri con una strada benissima. Il popolo del Paragastan sono poveri, ma lì bisogna vedere qual è la definizione della parola poveri. Perchè noi maghiaci ci basta avere una casa e un terreno per coltivare. Casa e cibo è basta. Siamo felici. E' stato molto bello. La stagione è secca e la stagione è umida. Durante la stagione è secca, facciandolo sempre così come prestigiano. Per noi festa significa cibo e alcool. Siamo felici. Il cacao è una pianta un pochino strana perché ha la sua particolarità, ne ha bisogno sempre l'ombra per crescere. Per quelle che sono alberi grandi ovunque, ne ha bisogno il 70% dell'ombra e il 30% del sole. Poi ci sono i formici che vengono a impollinare questo fiore e crescono e maturano durante circa tre mesi. Il cacao fa frutto tutto l'anno, però è il mese più forte di produzione, il mese di luglio, agosto e settembre. Un altro così possono produrre circa 70-60 kg di fave fresca all'anno. E poi dopo la raccolta, per avere il cioccolato, si fa la fermentazione, diciamo una settimana, dopo si lascia sudare il sole per un'altra settimana. Ci sono anche predatori in questa zona, il zebu. Se mangiano solo la frutta sul tronco, sei già fortunato, però se si grattano sul tronco cadono tutto il fiore perché è una cosa molto tragica. Voi dite in Italia, ogni tanto nel maiale non si butta niente, invece da noi nel cacao non lo butiamo proprio niente anche, perché con il guscio di cacao, come questo, impiamo il zebu per far ingrassare il zebu la sera come loro dessert. E questo è il cacao famoso, cacao meravigliato. E questo è il cacao che si muestλε, è un k Mitsinare, nel corpo che partano stupoline. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti